Ben ritrovati sulla Nuova TV, proseguono i nostri spazi dedicati al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Oggi per il fronte del No abbiamo ospite nei nostri studi il senatore del gruppo misto Saverio De Bonis. Benvenuto senatore. Grazie e buongiorno a tutti i tre spettatori. Prima di iniziare con le domande vediamo in questa scheda sintetica i dettagli di questo quesito referendario e quelli che saranno i riflessi per la Basilicata. Il 20 e 21 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum confermativo sulla riforma sul numero dei parlamentari. Il testo di legge prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento, da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Nel dettaglio si conteranno 115 senatori e 230 deputati in meno. Se vince il No resteranno 600 e 315. Con il riparto che deriverebbe dalla nuova legge i deputati lucani subirebbero un taglio del 33,33% passando da 6 a 4 mentre i senatori subirebbero un taglio del 57,14% passando da 7 a 3. A differenza dei referendum abrogativi per la validità del referendum costituzionale non è previsto il quorum. La riforma costituzionale sottoposta al referendum sarà promulgata se approvata dalla maggioranza dei voti validi indipendentemente da quante persone si recchino ai seggi. I numeri sono questi. Senatore De Bonis, con questa riforma è davvero in pericolo il principio di rappresentanza? Lo è soprattutto per regioni piccole come la Basilicata, il Molise, che sull'onda dell'antipolitica e dell'antiparlamentarismo rischierebbero di non avere più le proprie rappresentanze. Una volta la Basilicata aveva una flotta di parlamentari e quindi poteva fare massa critica nell'approvazione e proposta di disegni di legge, di mozioni, di atti di sindacato ispettivo. Con numeri più risicati, dal taglio abbiamo visto che la nostra regione perderà il 57% dei senatori, passando da 7 a 3, il 33% dei deputati. Non altrettanto avverrà in altre regioni del nord come il Trentino. Quindi una riforma sostanzialmente iniqua, tardiva, monca, che interviene appunto grazie a questa ventata di antipolitica. Noi riteniamo sia ormai al capolinea perché lo stesso partito che ha promosso il referendum e ha voluto il referendum più che il Movimento 5 Stelle, tra i suoi programmi al punto 5 non prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari, ma la riduzione degli sprechi, dei costi della politica, le pensioni, i vitalizi. Invece sappiamo bene come per esempio il Ministero degli Esteri non abbia dato dimostrazione di voler ridurre i costi della politica, c'è stato un incremento dei costi dello staff a circa 700 mila Euro, non era mai accaduto in passato. Dobbiamo stare attenti a che quando si mette mano alla Costituzione lo si faccia con riforme organiche, rispettando i principi ispiratori dei nostri padri costituenti e soprattutto nel nostro caso tenendo conto delle ragioni di piccole località e regioni come la Basilicata. Diceva prima, 4 senatori in meno, 2 deputati in meno, chi difenderà allora la Basilicata a Roma? La Basilicata rischia, nonostante abbia un'importanza strategica per l'acqua, per il sottosuolo, per le risorse minerarie, per il petrolio, avrebbero dovuto trattare la Basilicata alla stregua delle regioni a statuto speciale, proprio per questa ricchezza di risorse che apporta al Paese e quindi rischia la nostra regione di dover fare degli accordi con la Calabria, per esempio se i collegi aumenteranno in modo spropositato noi dovremo fare leggere alcuni senatori insieme a parti del territorio calabrese, quindi dobbiamo ricercare sponde in altre regioni. Voi capite che tutto questo complica la peculiarità della nostra regione, che ha le sue emergenze ambientali, che ha le sue emergenze occupazionali, il Covid, questo turismo a cui sono state tarpate le ali, abbiamo delle specificità e dobbiamo avere una classe dirigente all'altezza del compito. Senta, qualche giorno fa l'ex leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha detto in un'intervista che sette senatori per la Basilicata ad esempio sono troppi. A rispondere gli è stato il presidente della giunta regionale Bardi, lei si è sentito in qualche modo chiamato in causa. Beh, è chiaro che Luigi Di Maio predica bene, ma razzo a male, dovrebbe dimostrare che non siano troppi i membri del suo staff al Ministero, che insomma comporteranno una clave di costi per le tasche degli italiani di oltre 700 mila Euro. La nostra regione è fatta da un bacino di oltre 500 mila abitanti, nel rapporto con gli elettori noi siamo in linea con il resto dell'Europa, non è vero che l'Italia ha più rappresentanti di altri paesi europei. La nostra rappresentatività è correlata ai numeri medi dei grandi paesi europei. Con la riforma noi saremmo meno rappresentati rispetto ai grandi paesi europei, ma se consideriamo i piccoli paesi europei dove il rapporto è uno ogni 50 mila elettori, un parlamentare ogni 50 mila elettori, voi capite che alla fine questa battaglia è una battaglia demagogica che serve a far recuperare un po' di posizione al Movimento 5 Stelle che ha arretrato su tutte le battaglie più importanti e ha perso tutte le stelle. Senta, questa riforma è stata approvata nell'ultima lettura alla Camera circa un anno fa con un'ampissima maggioranza. Poi ci sono stati una serie di distinguo, di prese di posizione, anche dei costituzionalisti che si sono schierati da un fronte o sull'altro. Secondo lei perché molti hanno cambiato idea? All'inizio io mi sono meravigliato, il mio voto è stato coerente sin dal primo momento, mi sono meravigliato anche io perché tra i 70 senatori che hanno chiesto il referendum molti avevano dato approvazione durante i passaggi in aula, i quattro passaggi nelle aula del Parlamento. È evidente che si ragiona con la pancia, se il Movimento 5 Stelle agita una bandierina populistica e demagogica, i partiti maggiori pur di non perdere colpi e posizioni cercano di andare dietro. Ma è evidente che le firme dei 70 senatori che hanno preteso una conferma attraverso questo referendum e noi invitiamo tutti quelli che sono ancora indecisi, tutti quelli che avrebbero anche magari deciso di astenersi, che questo referendum, essendo un referendum confermativo e non abrogativo, non ha nessun valore astenersi perché potrebbe passare senza quorum a prescindere dalla percentuale dei votanti. Quindi è essenziale che tutti quelli che sono incerti, che ritengono che questa sia un'ennesima chiamata alle urne per creare più confusione di quanto non si immagini, chiediamo di ragionare proprio profondamente anche sulla questione dei costi, stiamo parlando di una tazzina di caffè risparmiata per ogni italiano, Cottarelli chiaramente ha dimostrato che risparmieremmo solo lo 0,007% del bilancio dello Stato, quindi è una goccia nell'oceano, ci sono ben altre formule per poter risparmiare sui costi e soprattutto va detto a Di Maio, ma anche a Conte, che ingerire in una battaglia referendaria, quando si è al governo stride con i principi dei nostri padri costituenti, dei nostri giuristi, Calamandrei lo aveva detto chiaramente nell'assemblea costituente che il governo non deve toccare palla quando si parla di modifiche costituzionali, invece stiamo assistendo all'arbitro che entra nel campo di gioco e quindi patteggia per una delle due parti. Senta, tra liste bloccate, partiti personali, piattaforme online non c'è il rischio che i partiti avranno sempre più un ruolo centrale nella scelta dei parlamentari? E questo è il rischio, c'è il rischio di una deriva che alla fine faccia trasformare la nostra democrazia che doveva dare pieni poteri ai cittadini, e questo può accadere solo con le scelte grazie alle preferenze, a un potenziamento, a una restrizione oligarchica di segreterie sempre più ridotte, ristrette, che decidono le sorti di tutti, insomma questo è il vero pericolo, immaginiamo con un Parlamento più ristretto chi debba decidere le sorti del prossimo Presidente della Repubblica, della riforma della Corte Costituzionale, delle nomine in molti enti, un'elite che restringe sempre più il potere nelle mani di pochi, dimostra quanto il primato della politica sia ancora lontano da conseguire e bisogna votare no proprio per restituire dignità, centralità, autorevolezza ad un Parlamento che è stato usurpato, che è stato violentato, che è stato vilipeso, noi dobbiamo difendere le istituzioni repubblicane perché solo così possiamo restituire dignità ai nostri elettori che negli ultimi vent'anni col maggioritario, con un sistema elettorale che non è costituzionalizzato come il numero dei parlamentari per esempio e non a caso i padri costituenti negli articoli 56 e 57 della Costituzione hanno inserito il numero dei rappresentanti ma non la legge elettorale, dobbiamo restituire dignità ai nostri padri costituenti proprio perché la carta costituzionale, la Costituzione è la fonte primaria del nostro diritto e non può essere violentata e concentrata nelle mani di pochi. L'ultimo tentativo di mettere mano alla Costituzione risale al 2016, al referendum di Renzi, però anche questo referendum a differenza di quello non abolisce il meccanismo del bicameralismo perfetto. Sì, non lo abolisce, noi rischieremo di essere come la Guinea, quindi è una scusa e abbiamo già visto che questa operazione a Renzi, benché quella riforma fosse un po' più organica, è costata tantissimo, quindi oggi io immagino che tutti gli indecisi se paragonassero questo referendum che è molto parziale e incide solo sul numero, senza una riforma degli equilibri costituzionali e istituzionali complessiva, come voleva fare Renzi, è ancora più grave dalla riforma di Renzi, allora se gli italiani hanno bocciato Renzi nelle urne referendarie con tutto quello che poi ne è conseguito sul suo destino politico, io penso che la ragionevolezza li indurrà a fare altrettanto anche il 20 e il 21 settembre. Senta, cosa pensa dei meccanismi correttivi che si vorrebbero mettere in campo? Sentivo Di Maio nei giorni scorsi che parlava di un testo di legge in senso proporzionale subito l'indomani della vittoria al sì al referendum, lei ci crede davvero? Non ci credo perché gli accordi con il PD chiaramente avevano incentrato il completamento dell'iter sulla legge elettorale prima ancora che si concludesse l'iter sul voto referendario, quindi siamo ancora di fronte ad una illusione politica raccontata con i media in modo ben architettato, ma che non corrisponde ai patti e agli atti sottoscritti con gli alleati di governo. Senta, c'è chi accusa i sostenitori del no che mantenere 945 parlamentari sia un modo di difendere il proprio status quo e quindi di garantirsi le poltrone, lei cosa replica? Ma è un alibi anche questo perché quando in Italia c'erano 40 milioni di parlamentari e c'erano Mussolini c'erano 400 parlamentari, oggi siamo 60 milioni di italiani, abbiamo mantenuto un numero che è congruo rispetto a quello che avevano previsto i nostri padri costituenti, anzi anche sotto rappresentato, noi siamo in linea con le tendenze del resto dell'Europa, questa volontà di ridurre il numero dei parlamentari serve a controllare il consenso parlamentare, lo vediamo dal numero degli atti di fiducia, l'altro giorno abbiamo votato in Senato il 24esimo atto di fiducia che questo governo doveva combattere, invece lo ha adottato, lo vediamo con una serie di attività, tutti i DPCM che sono stati firmati addirittura, non solo hanno dribblato il Parlamento ma addirittura il Presidente della Repubblica, siamo di fronte a una concentrazione dei poteri, uno sbilanciamento tra potere esecutivo e potere legislativo che è molto pericoloso per la nostra democrazia, quindi se ci sono più sentinelle che vigilano all'interno del Parlamento e si fanno meno campagne diffamatorie verso i parlamentari, sicuramente noi restitueremo dignità al nostro Parlamento. Sette, riflessi politici di questo referendum ce ne potrebbero essere? C'è qualcuno che pensa che avrà conseguenze sul governo nel caso in cui vincesse il no? No, il governo io credo che sia abbastanza blindato, non ci saranno risvolti come accadde invece in altre circostanze. Forse le regionali potrebbero creare molte più difficoltà, esiti negativi sulle regionali rispetto al referendum potrebbero creare dei problemi, ma sicuramente dopo le elezioni ci sarà un ripasto. Senta, per finire un appello, un minuto a sua disposizione, perché votare no al referendum costituzionale? I cittadini della Basilicata se vogliono tutelare il loro territorio e avere delle rappresentanze, delle voci forti all'interno del Parlamento non possono accettare questa riforma e devono essere più mobilitati rispetto a tutte le altre regioni, perché dal taglio dei Parlamenti la nostra regione rischierebbe di essere annullata dallo scacchiere della democrazia nazionale. E allora, il tempo a nostra disposizione è scaduto, io ringrazio il senatore Saverio De Bonis che ha rappresentato le ragioni del no per essere intervenuto nei nostri studi, ringrazio anche i telespettatori che ci hanno seguito da casa e do appuntamento alle prossime tribune dedicate al referendum, sempre sulla Nuova TV.